13 ottobre Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Atti 3, 6 Il bene prezioso Pietro e Giovanni incontrarono uno zoppo alla porta del Tempio e condivisero con lui un bene davvero prezioso. La loro fede in Cristo Gesù. Argento ed oro non avrebbero mai potuto procurare i mezzi per far camminare normalmente quello zoppo, ma la potenza di Cristo può sanare all'istante. L'oro, così durevole e lucente, è certamente un materiale nobile, ma la fede nel nome di Gesù è ben più preziosa dell'oro che perisce. Gesù non accumulò tesori materiali da lasciare come eredità ai Suoi seguaci, però disse loro, Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Quale aiuto ti aspetti da Lui? Se non godi queste ricchezze, cosa ti può sollevare dalle tue ansie, rialzare dalla tua depressione? Come potrai camminare nella potenza e nella consolazione dello Spirito Santo? Hai bisogno sicuramente di qualcosa di più pregiato di metalli rari. Occorre una fede personale in Cristo. Qualunque cosa tu debba lasciare per afferrare le promesse di Dio e ricevere le sue benedizioni incorruttibili. Non indugiare, Egli è infinitamente più prezioso dell'oro. Lo zoppo camminò grazie al nome di Gesù. Anche tu oggi puoi realizzare la nuova vita per la fede nel suo sacrificio. Anche tu oggi puoi realizzare la nuova vita per la fede nel suo lavoro. Egli a fare le sue benedizioni incorruttibili. Anche tu oggi puoi realizzare la nuova vita per la fede nel suo lavoro. Grazie a tutti.